ciao a tutti io sono francesca e questo è il mio canale volevo fare un video dove parlavo nei confronti di una cosa che è successa oggi su youtube allora ci sono delle persone che stanno su youtube per fare dei video contro delle altre persone e possono delle volte usare dei termini non appropriati permetto che io non sto dalla parte né di uno né dell'altro ok sono abbastanza fuori da da queste cose qua nel senso che mi sono tirata fuori di mia spontanea volontà non mi va di stare in mezzo a questi casini perché non fa bene né il mio canale non fa bene nemmeno me allora volevo parlare di una persona che sulla cinquantina d'anni più o meno facciamola così che ho fatto prima ho fatto una live però non riesco a salvarla non so perché che si permette di dire che una persona è gay fa insulti omofobi allora io non posso capire e pensare il fatto che ti scappano queste cose perché si arrabbiato perché nel 2019 queste cose dovrebbero essere la normalità vedere due uomini che si baciano o due donne che si baciano dovrebbero essere la normalità non devono essere giudicate le persone in base al loro orientamento sessuale vergogna non devono essere giudicate per questa cosa qui poi il fatto che comunque il tuo compagno dice delle cose come io dormo a testa a testa verso il tetto mangia più patate ma io potrei io nella mia vita sessuale potrò fare quello che voglio ti ha criticato questa persona ok ha detto una cosa stupida del fatto che al discount se un povero se va il discount io vado al discount e non sono povera però ci sono delle cose che sono più buone al discount ci sono delle cose che prendo supermercato qual è il problema e tu ti prometti di dire a ma secondo me sei anche un po gay e anche se fosse gay e mettiamo una cosa visto che tu hai detto che ti vero che ti vergogni che non ti piacciono i gay facendo questa live qui mettiamo che tuo figlio sia gay non penso che lo sia però mettiamo che lo sia come la prenderesti oppure come la prenderebbe tuo figlio se vedesse quella live se lui fosse gay e vedesse quella live che hai fatto come la prenderebbe perché tu l'hai cancellata ma è stata ripubblicata giustamente su altri canali come la prenderebbe tuo figlio la prenderebbe bene o la prenderebbe male per me la prenderebbe male ci sono certe cose cioè se te ti insultano prendila con quella persona non generalizzare sull'argomento perché poi dopo tiri in mezzo anche altra gente ok quindi il fatto che tu dici perché sei anche un po gay ma sarà un problema suo se ne dà via il quale problema c'è se una persona è gay o non è gay o lesbica o non è lesbica qual è il tuo problema sei tu quella persona allora finché quella persona lì non ti viene a fare dei danni a te non non mi sto riferendo a quella persona che ti ha risultato è parlo in generale perché tu hai offeso in generale ok per il fatto che tu mi vieni a dire a me c'hai vent'anni devi devi portarmi rispetto io porto rispetto alle persone che hanno rispetto per le altre persone tu stasera dimostrati non avere rispetto delle altre persone ed a me rispetto non ce l'avrai mai chiaro perché mi sono rotto i coglioni che nel 2019 si debba ancora sentire guarda quel frocio guarda quella lesbica chi è tra le due maschio la femmina mi sono rotto i coglioni due donne possono stare assieme a baciarsi qual è il tuo problema due uomini possono stare assieme a baciarsi qual è il tuo problema una persona possono piacere sia le donne che gli uomini qual è il tuo problema finché non vengo a dare fastidio a te tu non devi rompere il cazzo a me ok vivila di questo perché tu hai nel voler insultare lui hai preso tutto un gruppo di persone non lui se tu volevi insultare lui prendevi lui e basta e basta cioè di cosa stiamo a parlare poi comunque volevo anche adesso parli un attimo di altro perché è uscito un nuovo singolo della mia passione preferita che è francesca miguelina è un singolo che si chiama che yen se yen che mi metterò il commento il link nel commento in alto in descrizione top e ciao mi raccomando non siete omofobi ciao